C'è il circolo canottieri Barion davanti a tutti. Anche dopo la tappa di punta ala, il circolo barese resta in vetta al campionato italiano di Sup Race. Dieci ipodi conquistati nel sesto appuntamento della manifestazione, che ha messo in evidenza anche giovani promesse, oltre al campionissimo Davide Alpino. Il 23enne di Bari, nel giro delle nazionali da tanti anni, si è distinto anche in Toscana, dove ha conquistato il primo posto nella sprint race e il terzo sulla lunga distanza. Prestazione estremamente positiva anche per il 17enne Nicolo Ricco, in vetta tra gli under 18 in entrambe le gare. Barion competitivo anche al femminile, con Laura Nitti, 18enne, prima nella long distance e seconda nella sprint. Stesse posizioni, ma gare invertite per Velia Pisanelli, che tra le under 16 ha vinto la sprint e invece ha chiuso al secondo posto nella lunga distanza. Da evidenziare anche la prova di Bianca Scarangella tra le under 18, secondo posto nella sprint, terzo sulla long distance. Importante esperienza anche per gli altri agonisti del Barion. Fra gli under 18, appena fuori dal podio Giancarlo Conte, due volte quarto e doppio sesto posto per Riccardo Carella. Nella categoria senior, settima posizione per Elias Alpino, fratello minore di Davide. Un bottino di tappa che vede il canottieri Barion continuare a guidare la classifica generale in quattro diverse categorie. Dominio per Alpino e Nitti in combinata senior come Ricco tra gli under 18 e Pisanelli tra le under 16, protagonista anche Scarangella seconda tra le under 18. Tutti i risultati che attestano il circolo barese di Molo San Nicola tra le realtà più competitive del panorama italiano.